È un anno importante per l'Avis Fanese perché ricorre il 65esimo anno di fondazione. Per l'occasione sono in programma diversi progetti con lo scopo di diffondere e far meglio comprendere alla cittadinanza l'importanza della donazione e al tempo stesso mantenere sempre viva l'esigenza del sangue. Il fabbisogno infatti resta costante per l'elevarsi dell'età media della popolazione, per gli interventi programmati e per i progressi della medicina. Tra le iniziative quest'anno rientra la manutenzione del monumento nella piazzetta intestata ai donatori di sangue per il 14 giugno. Poi, giorno in cui si festeggia la giornata mondiale dei donatori, verrà realizzata una catena umana con le società sportive che dalla sede a Visina, in via San Francesco, si prolungherà fino a Piazza 20 Settembre. Altri dati importanti, rilevati dal bilancio sociale 2014, sono le quasi 4.600 donazioni, gli oltre 2.500 soci e i 329 nuovi donatori. Il secondo bilancio sociale per noi è un fatto molto importante perché rende trasparente per la città, per tutta la collettività, le attività che abbiamo messo in campo nel 2014. Noi crediamo in questo fatto del bene e della salute, tant'è che per il 65esimo abbiamo messo in campo una serie di iniziative, tra cui la prima è proprio quella che annunciamo oggi, è una ricetta di cuore, è un'iniziativa pseudoletteraria. Cioè, devono scrivere un aneddoto, un racconto del perché di questa ricetta, poi collegano la ricetta, una commissione sceglierà la ricetta migliore, è collegata all'Expo e noi non potevamo essere da meno perché l'Avis nazionale già aderisce all'Expo e poi ci sono in omaggio degli biglietti di ingresso all'Expo e anche il biglietto del treno di andata e ritorno Fano Milano. L'associazione di volontariato inoltre continua a prendersi cura non solo di chi riceve il sangue, ma anche del donatore stesso, che viene sempre più tutelato grazie ad una nuova collaborazione con l'Asur. Abbiamo fatto questo accordo in cui, diciamo, per gli uomini oltre i 50 anni possono chiedere gli esami per il tumore al colon, esami preventivi, e per le donne dai 25 anni in su, le donatrici possono rivolgersi all'Asur chiedendo di essere sottoposti al pap test e all'esame al seno, alla mammografia per evitare il tumore al seno perché tutelando la salute del donatore si tutela la famiglia e la sicurezza. Proseguono anche le iniziative legate allo sport. Quest'anno sono state contattate 35 società e sensibilizzati circa 1000 atleti. Di questi, più di 400 sono diventati donatori. Inoltre continuano le collaborazioni con le scuole del territorio di ogni ordine e grado. Quest'anno abbiamo coinvolto quasi 1000 studenti. La novità è stata che, oltre ad aver avviato un confronto con tutti gli istituti superiori, siamo entrati anche negli istituti secondari di primo grado, quindi con ragazzi di 12-13 anni, molto interessati, molto partecipi e che soprattutto si sono fatti portatori anche di questionare i prossimi loro genitori per conoscere qual è la loro visione rispetto all'Avis, per conoscere se sono disponibili ad incontri loro stessi. Quindi è stato un momento anche molto interessante e molto costruttivo.